Da un'idea di ragazzi professionisti, nasce la pizzeria Osteria e Braceria Donna Angelica, una pizza speciale per i veri intenditori, cotto a forno a legna con materie prime e ingredienti a chilometro zero. E inoltre, primi, secondi contorni antipasti, preparata a secondo la tradizione, per la braceria a rosticini e carni di allevatori locali. La pizzeria Osteria e Braceria Donna Angelica e in via Don Milani Lusciano Aversa.